Presidente Crocetta, lei è soddisfatto di questa direzione? Credo che sia stato dei fatti dei passi avanti. Mi dispiace che Bessani non prenda in questa transizione che ci deve portare a congresso la direzione del partito perché credo che sarebbe stato veramente utile al partito in questa fase, avere un punto di riferimento certo. Questo è un po' complica le vicende interne, però credo che bisognerebbe insistere ancora su questo. La scelta di Letta come capodelegazione è una scelta giusta, spero che poi a Letta vengano dato anche un incarico di governo, un incarico come premier, è chiaro che la mano è a Napolitano, però credo che Letta sia abbastanza innovativo per portare avanti elementi di novità in questo paese. La parola Paletti è stata un po' tipo tabù, il Paletti è il Presidente Napolitano. I paletti a fare il Presidente Napolitano non si possono fare perché Napolitano è il capo dello Stato e noi abbiamo dimostrato anche che attorno a Napolitano si può realizzare un'unità ampia e questo è un dato importante che in questo paese, in questa fase così difficile, ci siano delle certezze. Però spero che anche Napolitano non pensi a soluzioni del passato perché queste non piacciono agli italiani. E quindi? E quindi lei chi vedrebbe bene a questo punto? In questo momento io credo che Letta sia il naturale cantinato alla Presidenza della Repubblica, a Premier per la Presidenza del Consiglio, che credo riceverebbe il consenso più vasto che noi potremmo realizzare. Renzi è meglio che si scalda per le prossime elezioni? Renzi, secondo me, deve fare dei passaggi democratici che noi prevediamo col nostro statuto. Le primarie le ha perse. Una forzatura su Renzi sicuramente non aiuterebbe questo partito a mantenere l'unità e andare avanti. Santa Presidente, lei governa in Sicilia con il sostegno anche del Movimento 5 Stelle. Ecco perché a livello nazionale questo non ha funzionato? Ma credo, per tante ragioni, Bersani onestamente il tentativo l'ha fatto, l'ha fatto tutto, è stato sincero. Solo che loro non hanno capito, secondo me, l'onestà, la sincerità di Bersani, che la proposta non era una proposta strumentale, loro hanno pensato di trovarsi di fronte al segretario di un partito che poneva dei trucchi, delle cose, eccetera, un po' e hanno diffidato. Questo ha bloccato sicuramente il sostegno e la possibile apertura. Allora avrebbero potuto dire, bene, cominciamo a discutere, poi individuiamo il premier, eccetera, ma su questo non c'è stata anche da parte loro alcuna disponibilità, per cui noi ci siamo trovati imbarcati in una situazione in cui da un lato ci troviamo a volere dialogare col Movimento 5 Stelle, dall'altro a livello nazionale. Mentre ho riscontrato che c'è buona parte anche di quei parlamentari, l'ho visto nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica, disponibili a un confronto, altri totalmente indisponibili a confronto. Ora, questo crea una situazione bloccata, mentre il Paese ha bisogno di un governo, e quindi io credo che sulle proposte noi dobbiamo fare un'apertura a quel Movimento, cioè avere la capacità di interpretare anche i temi che ci vengono da quell'area politica e io credo che a quel punto loro faranno quel passaggio che li porterà a votare leggi che contividono e che sicuramente cominciano ad avvicinare il dialogo istituzionale. Abbiamo tante cose importanti su quelle quali possiamo intervenire sulla questione delle nuove povertà, le marginazioni che sono l'emergenza delle emergenze, ma c'è tutta la questione per esempio degli esodati, la questione delle imprese che stanno fallendo, ma c'è anche bisogno di abolire sprechi legate a cose inutili, a privilegi che bisogna tagliare, a un modo nuovo di fare trasparenza nell'attività di governo, nell'attività amministrativa. È su questo che noi riusciamo a poter avere un consenso. Io penso che su terreni utili di confronto che attengono alla democrazia, ai diritti, eccetera, credo che anche lì cominceremo a registrare i passi di un movimento che sperimenta per la prima volta la via parlamentare e con essa si deve confrontare, però non chiudere. Qualsiasi tipo di governo si faccia, io credo che non bisogna chiudere assolutamente questo dialogo perché poi bisogna interpretare quanto di buono può venire da un movimento che anche pone delle questioni alla politica italiana.